Salve e benvenuto nel mio tutorial. In questo video ti andrò a mostrare il modo più semplice per risolvere un cubo di Rubik in soli 7 minuti e in 7 semplici passi. Diamo un'occhiata al nostro cubo di Rubik. Hai pezzi sul bordo con due colori, quelli agli angoli con tre e quelli al centro con un solo colore su ogni faccia del cubo. Come puoi vedere, il pezzo centrale non cambia mai quando io ruoto le facce del cubo, quindi sarà proprio il colore del pezzo centrale a determinare il colore di ogni faccia, una volta risolto. Il cubo ha sei facce e andremo a dar loro come nome le iniziali delle direzioni inglesi, front, back, left, right, up and down, che stanno per fronte, dietro, sinistra, destra, sopra e sotto. R significa una rotazione oraria della faccia di destra. La rotazione inversa è accompagnata da un apostrofo e il doppio giro è invece accompagnato da un due. Siamo pronti per risolvere il cubo. Nel primo passo dobbiamo risolvere i bordi bianchi, dovranno combaciare con i colori al centro di ogni faccia laterale, quindi l'esempio sulla destra non è la soluzione corretta. Trova un pezzo bianco sulla base del cubo e portalo dove dovrebbe trovarsi. Il pezzo bianco potrebbe essere su un lato o guardare verso il basso. Quando guarda verso il basso, fai semplicemente una doppia rotazione verso l'alto. Quando invece si trova su un lato, devi fare rotazione frontale inversa, rotazione destra inversa, rotazione bassa inversa, rotazione destra, doppia rotazione frontale. Quando non ci sono pezzi bianchi sul bordo della faccia in basso, possiamo portarceli noi. Quando il pezzo si trova nella cornice centrale, tieni il cubo dai bordi nelle posizioni evidenziate e fai rotazione destra invertita, bassa invertita e quindi destra. Sai già come risolverlo quando si trova nella sezione in basso. Quando si trova nella cornice superiore, semplicemente fai una doppia rotazione di quella faccia e posizionala in basso. Fai questo procedimento e una volta che tutti i pezzi bianchi si trovano al loro posto, potremo andare a risolvere anche gli angoli bianchi. Utilizzeremo un trucco per risolvere gli angoli. Destra inverso, basso inverso, destra, basso. Questo algoritmo scambia due pezzi evidenziati, cambiando la loro direzione ad ogni passo. Sposta un angolo bianco sotto il punto dove vuoi farlo arrivare e ripeti, destra inverso, basso inverso, destra, basso, fino a che il pezzo non si trova nella cornice superiore. Usa le stesse mosse per spostare un angolo da una posizione errata. Allinea il cubo ed esegui il trucco una volta. Ora puoi inserirlo facilmente nella cornice superiore, ripetendo l'algoritmo. Quando la faccia bianca è completa, possiamo capovolgere il cubo. Useremo due algoritmi per risolvere la seconda cornice. Uno di questi sposta i pezzi evidenziati verso sinistra, l'altro verso destra. L'algoritmo sinistro è alto invertito, sinistra invertita, alto, sinistra, alto, fronte, alto invertito e fronte invertito. L'algoritmo destro è invece alto, destra, alto invertito, destra invertito, alto invertito, fronte invertito, alto e fronte. Usa gli stessi algoritmi quando un pezzo si trova nel mezzo della cornice ma non si trova dove dovrebbe essere. Sto utilizzando l'algoritmo destro per spostare un pezzo fuori, così che io posso inserirlo di nuovo nella cornice superiore. Quando tutti i pezzi sono risolti, nella zona centrale dovresti avere ancora una faccia completamente bianca. Nel prossimo passo andremo a creare una croce gialla sulla sommità del cubo. Controlla i pezzi gialli. Vedrai o un punto singolo, o una L, o una linea, o ancora una croce. Quella che vogliamo raggiungere è la croce e abbiamo l'algoritmo che ci permetterà di passare da un tipo all'altro. Rotazione frontale, destra, alta, destra invertita, alta invertita e frontale invertita. Assicurati che la L sia orientata correttamente prima di eseguire queste mosse. Quando i pezzi gialli in alto stanno puntando verso dietro e sinistra, puoi eseguire l'algoritmo. La linea è orizzontale, quindi possiamo proseguire ancora una volta per raggiungere la croce. Ora dobbiamo gestire i pezzi gialli in modo da combaciare con i pezzi laterali. Gira verso la parte alta e prova a trovare colori corrispondenti. Se ci sono due colori che combaciano, allora tieni il cubo lungo i pezzi sbagliati sul fronte e la sinistra. A questo punto usa questo algoritmo per scambiare due pezzi evidenziati. Destra, alto, destra invertito, alto, destra, alto due volte, destra invertito e alto. Talvolta ti troverai con i pezzi che combaciano sui lati opposti del cubo. In questo caso non devi fare altro che usare l'algoritmo due volte. Usa l'algoritmo, trova due pezzi che combaciano, allinea il cubo e usa nuovamente la sequenza. A questo punto solo gli angoli gialli sono rimasti per finire il nostro cubo di rubik. Prima dobbiamo metterli nella corretta posizione e poi li orienteremo nel prossimo passo. Ruotate il cubo e trovate un pezzo che sia dove dovrebbe essere. Tieni il cubo tramite questo pezzo nella sua posizione fronte, destra, alto e muoviti secondo. Alto, destro, alto invertito, sinistro invertito, alto, destro invertito, alto invertito, sinistro. Ripeti il processo se i pezzi non arrivano nella loro posizione a primo tentativo. Nel caso non doveste trovare nessun angolo nella corretta posizione, esegui nuovamente i passi e controlla di nuovo i colori. Devi ricordarti l'algoritmo destra invertito, basso invertito, destra, basso. Ora useremo lo stesso per orientare gli angoli gialli in quest'ultimo passo. Fai attenzione. Tieni il cubo con l'angolo giallo sbagliato nella posizione fronte, destra, alto. Ripeti, destra invertito, basso invertito, destra, basso, fino a che i pezzi gialli non guardano verso l'alto. Ruota la faccia superiore per portare un altro angolo giallo disallineato nella posizione fronte, destra, alto. Esegui le mosse fino a che il pezzo giallo non sta guardando verso l'alto. Gira la cornice superiore per finire il cubo. Ecco un altro esempio quando tutti gli angoli sono sbagliati. Fai le mosse, porta un altro pezzo, fai le mosse, porta un altro pezzo, fai le mosse, porta un altro pezzo, fai le mosse e hai finito il cubo. Congratulazioni! Hai completato il cubo di Rubik. Visita il sito internet per trovare in un solo punto gli algoritmi usati e altri esempi. Prova il risolutore online del cubo di Rubik per calcolare la soluzione in soli 20 passi. E sfoglia la wiki del cubo di Rubik per leggere interessanti articoli su questi puzzles machiavellici. Grazie per aver visto questo video e buon incubamento!